Ragazzi, è uscito un nuovo spacchettamento di tuberanza di Dragon Ball e se nomina le Laming Cards il video finisce non finisce sul botto perché sennò poi non sarebbe bello ma se nomina le Laming Cards il video finisce con lui con un video di risposta, ecco diciamoci la verità è una scusa di fare un video di risposta andiamo Dragon Ball Card Game Beyond Generation ma perché Beyond Generation? contiene una quantità di tesori inestimabili eeeh inestimabili la giocare di carta ho l'opportunità di spacchettare insieme a voi link in descrizione del copo del nerd codice scondo tuberanza per il 5% su tutto ma non era Card Game Club il tuo sponsor ma così è cambiato un'altra volta c'è un cazzo di monsignaro cazzo di carte per pacchetto 24 pacchetti in ogni box con all'interno di ogni box una carta SR oppure SPR garantita quale troveremo noi? tra poco lo scopriremo ma prima faccio passare davanti ai vostri occhi gli obiettivi che ci siamo prefissati in questo spacchettamento madonna prefissati non si può sentire dovevo assolutamente metterli negli obiettivi perché sono meravigliosi le altre carte non ve lo dico per niente perché sono clamorosamente belle ok andiamo ad aprire questo box e scopriamo te lo meriti guarda tra una SR e una SPR te lo meriti no piangi no piangi eh ricercatissima eh ricercatissima figo che è stata venduta qualche giorno fa anche bella forte però costa 8 non vale un cazzo porca puttana madonna puttana madonna non ha buonissimo mercato quindi è incredibile nel prezzo cazzo 5.000 euro per un pezzo di carta stampato Cristo delle carte estremamente belle ed estremamente di valore guardate l'artwork del pacchetto quanto è bello tutto luminoso al che però vi voglio fare una domanda eh se voi aveste 2 euro lo buttereste per terra? no la risposta ovviamente è no al che mi domando e allora perché comprate le lamin cart? eh eccolo qui eccolo qui eccolo qui eccolo qui eccolo qui porco dio allora non voglio risultare il bambino che fregna perché non sono un bambino che fregna differenza di tube ma Gesù crocifisso dai romani sono 5 anni che dici che queste carte sono meglio delle lamin cards io l'ho capito dio Cristo l'ho capito l'abbiamo capito ti fanno schifo le lamin cards ok sono dio Cristo 5 anni che dice questa cosa quando eri alla vecchia casa hai rotto il cazzo hai rotto il cazzo porca dio madonna e fra l'altro vi devo dire una cosa non è che la sempre odiate no perché neceppacco per te quando faceva i video dove la gente gli mandava le cose gli piacevano queste carte e allora che cazzo dici cosa perché te le davano gratis le carte ma sei veramente un falso ora basta io mi sono rotto il cazzo ora basta ora non voglio più vedere suberanza basta 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 Grazie a tutti.